Chiamo sul palco Giovanni Saladanna, direttore generale di Bossoni Automobili. Buongiorno, buongiorno e un benvenuto da parte del nostro gruppo a tutto il polo della Cosmesi. Ringrazio il dottor Matteo Moretti. Siamo veramente onorati di poter dare spazio a ospitarvi nelle nostre sedi per questa giornata, questa Innovation Day. Dico che ci sono molte analogie anche nel nostro settore, perché anche l'intelligenza artificiale sta entrando anche nel nostro mondo. Due parole sulla nostra azienda, siamo praticamente un'azienda di origini bresciane da Orzinuovi, l'azienda è nata nel 1987, però siamo arrivati nella provincia di Cremona nel 2008, proprio qua a Bagnolo Cremasco. Sono seguiti tutta una serie di investimenti che hanno portato parecchi brand, sia di Stellantis, oggi una volta era Fiat Auto, abbiamo aggiunto poi brand come Volkswagen Group, siamo presenti anche a Cremona, per ovvi motivi di presidio fra la provincia di Cremona che è lunga e stretta. La nostra azienda è un'azienda che ha parecchi brand, siamo presenti in quattro province, l'organico oggi arriva a mille dipendenti, quindi siamo praticamente tra le prime tre aziende nel nostro settore a livello Italia. Questo chiaramente non vuole, non voglio passare un messaggio che siamo grandi, siamo bravi, tutti i giorni bisogna migliorare, tutti i giorni bisogna lavorare per cercare di entrare nel territorio e secondo noi anche questa occasione è stata praticamente da noi recepita, dai ragazzi del marketing e abbiamo velocemente concordato e accordato questa giornata. Vi porto i saluti anche del nostro presidente Mauro Bossoni che in questo momento è a Roma, ma avrà un volo di rientro quindi si preoccuperà di venire a fine giornata per comunque dare anche lui un saluto a tutti voi. e quindi nulla, ovviamente la nostra azienda fa tanto nel territorio, nell'ambito sportivo, nell'ambito sociale e quindi anche oggi per noi è una grande occasione per farci conoscere e aggiungo poi che ci sono anche delle persone, i nostri colleghi nel commerciale che sono comunque a disposizione ovviamente dopo che verranno chiaramente da voi approfonditi tutti i temi legati a questa giornata, legata alla Cosmesi, però sarebbe cosa gradita nel caso in cui ci fosse interesse da parte di qualcuno di voi per approfondire, provare, vedere chiaramente anche le nostre vetture, le nostre macchine siamo a vostra disposizione anche per intraprendere poi potenzialmente un contatto futuro anche con voi. Non vi tedio ulteriormente, vi ringrazio ancora, ringrazio le autorità, ringrazio il Presidente, ringrazio tutti gli imprenditori che in questa zona hanno veramente dato un segno molto importante per la Cosmesi perché comunque vivo e lavoro in un settore completamente diverso ma sono sicuramente al corrente di tutto quello che c'è in questa zona legato al vostro mondo. Quindi vi auguro una buona giornata e ci vedremo poi verso la fine della serata con il saluto anche dal nostro Presidente. Bene, grazie. Grazie, grazie ancora. A Giovanni Saladanna.